I carabinieri della stazione di Verolengo hanno denunciato due persone di 64-84 anni gravemente indiziate di ricettazione. La pattuglia, durante un posto di controllo, ha fermato l'auto con a bordo due uomini. Un controllo più approfondito del mezzo ha permesso di ritrovare un sacchetto con centinaia di monili in oro, catenine, anelli, fedi e collane, per un totale di 573 grammi e vario materiale atto allo scasso. Al momento del ritrovamento, i due uomini non hanno saputo giustificare il possesso del materiale che è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno allestito una mostra presso la sede del comando Compagnia di Brea con la merce sequestrata. Per appuntamento, telefonare al numero 0125 231715. Per appuntamento, telefonare al numero 0125 231715.